Buongiorno e benvenuti a questa zuppa di domenica, vediamo quello che è successo sui giornali oggi e ovviamente anche in Italia. Sono stati eletti Presidente della Camera e del Senato Roberto Fico del Movimento 5 Stelle e Elisabetta Casellati di Forza Italia e tutti e due sono stati votati con i voti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, mentre il PD ha votato dei suoi candidati di bandiera. Allora secondo me tra qualche anno racconteremo quello che è successo al Parlamento in Italia ieri, questo voto, come spesso avviene nei Parlamenti e vengono dei voti che voi non vi immaginate, un po' come nel 2013 Bertolucci vigliaccamente ha raccontato la scena dello stupro in l'ultimo tango a Parigi. Sostanzialmente Maria Schneider non era conoscenza, era tutta una bugia quella che ci hanno raccontato per tanti anni, era tutta una falsità, in realtà Maria Schneider volevano addirittura parole di Bertolucci che si rendesse conto che si stupisse da ragazza di quello che stava per avvenire. Insomma una roba che oggi tutti dovrebbero essere arrestati con il clima che c'è, ma voglio dire anche forse all'epoca è abbastanza disgustoso quello che hanno fatto a questa giovane attrice di 19 anni. Un marron brando di 48 e un Bertolucci compiaciuto. Vediamo come reagisce a una violenza indiretta una giovane di 19 anni. Perché vi racconto questo? Perché quello che è avvenuto ieri è stato qualcosa che nei prossimi anni racconteremo come l'atto finale, come lo stupro rispetto a quello che abbiamo raccontato negli ultimi agi. E oggi i giornali un po' non se ne rendono conto di questa cosa. Alcuni continuano a, secondo i loro caroni tradizionali, a essere partigiani, a essere contro il Cavaliere o contro il PD. oggi persino viene intervistato da Repubblica, da chi viene intervistato? Martina che dice hanno perso la loro innocenza quelli del Movimento 5 Stelle. No, non hanno perso la loro innocenza quelli del Movimento 5 Stelle. È diventato totalmente inutile sentire purtroppo quello che pensa il PD oggi in questa fase del governo. Perché Movimento 5 Stelle e Lega, partito che ha preso la metà dei voti del Movimento 5 Stelle, hanno cambiato il panorama politico. L'hanno fatto stuprando, lo dico come analista, non come analista di quello che c'è scritto sui giornali, cioè violentando quello che succede. I violentati se ne sono resi conto, tant'è che il Movimento, mentre Berlusconi è pronto a tutto ed è convesso, riesce a fare le paci e le liti, oggi i giornali avrebbero potuto ricordare quando diede la fiducia al governo Letta e Letta disse è un grande, perché non gliela voleva dare, poi alla fine gliela diede. Berlusconi in questo riesce sempre a trovare, come posso dire, il modo di far pace con tutti, per chi ha paura, come qualcuno dice, che poi discippino le aziende, le sue grandi attività commerciali. Chi fa politica con lui a un certo punto non ci capisce più nulla. Romani e Brunetta pare che abbiano detto oggi mi sembra su Repubblica, mo' ce ne andiamo. Romani ha detto che Berlusconi non è più il leader. Siccome ho visto quello che è successo nei pretoriani di Berlusconi del passato, pensate un po' voi Bondi, che era l'uomo di Berlusconi, che poi è diventato anti-berlusconiano, non mi stupirei che le persone oggi più vicine a Berlusconi domani non lo siano più. Ma Berlusconi poi comunque ci sarà ancora nei limiti e oggi, secondo un'indiscrizione di qualche giornale, Berlusconi avrebbe detto a Romani e Brunetta guardate che se non ce l'avate voi prendevo il 5% in più. Insomma, questo è il gran pasticcio nella politica tradizionale. Stuprata dall'accordo, è inutile che fingiamo l'accordo tra Di Maio e Salvini. Altrettanto da stupro è quello che deve fare il popolo del Movimento 5 Stelle, votare da Casellati, cioè sostanzialmente non hanno votato Berlusconi. Oggi in un'inutile intervista a Repubblica o al Corriere, sempre Di Maio fa un'intervista in cui non dice nulla. L'unica cosa che dice, che rivendico il fatto di non aver incontrato Berlusconi. Ma hai votato! La donna che ha fatto il Ministro di Giustizia di Berlusconi, come era il sottosegretario del Ministro di Giustizia di Berlusconi, come lo ricorda bene oggi il fatto, lo strillone del Movimento 5 Stelle, e rivendichi il fatto di non aver visto Berlusconi. E poi, caro Di Maio, ha la domanda del giornalista che dice scusami, ma Fra Caro, che era quello che tu avevi candidato la sera e che la mattina è stato fottuto da Fico, l'uomo, diciamo, di sinistra del partito. Per quale motivo l'avete fatto fuori? Non risponde. Non risponde. Leggetemi l'intervista. Non risponde. Ringrazio Fra Caro, sembra Forlani Di Maio. Cioè, i giochi di palazzo che tanto loro odiavano oggi fanno parte del loro DNA. Ma è un DNA che è la politica, come dice Polito oggi in un'intervista nel suo pezzo del Corriere della Sera. Di che ci stupiamo? La politica è fatta di queste cose. E la politica oggi ci consegna, in questo Martina ha ragione, un Movimento 5 Stelle che ha perso la sua verginità, ha fatto le trattative, ha fregato i suoi uomini come Fraccaro e un centrodestra in cui sostanzialmente la Lega ha fottuto Forza Italia e Berlusconi si è fatto convesso come da par suo per non perdere ruolo all'interno di questa situazione politica esuberante. Ultime due cose, perché ho poco tempo oggi. Leggete l'intervista a Ada Colau, che è la sindaca di Barcellona, che dice che la nave che è stata sequestrata dai magistrati italiani per associazione a delinquere, finalizzata all'immigrazione clandestina, dice che se sono loro colpevoli lo è anche Barcellona. Loro sono quelli che noi dovremmo fare. Open arms è quello che Barcellona avrebbe dovuto fare, tutti dovremmo fare nei confronti degli immigrati. Allora sapete che ho pensato? Per fortuna, vi dico per fortuna che abbiamo Virginia Raggi. Noi che ci lamentiamo delle sue buche, almeno non è ideologica. Questa Ada Colau, trovi la sindaca di Barcellona, ti metti le mani nei capelli, per fortuna che abbiamo Sala, per fortuna che abbiamo Virginia Raggi. Leggetela e vi conforterete del fatto che non siamo messi così male. Molto male è messa Facebook, perché sta un po' cambiando il vento. Tutti dicono che non vogliamo più investire su Facebook, ma comunque continua a fare 40 miliardi di utili, scusatemi, è una roba mostruosa, è una macchina da guerra. So che vale 486 miliardi in borsa, lasciamo perdere utili, che è un dato che posso aver sbagliato. Ma la cosa fondamentale che c'è oggi sui giornali è tutti gli investitori che non vanno più da loro. Tra gli altri c'è Brian Acton, che voi direte ma chi cacchio è Brian Acton? Brian Acton è quello che gli ha venduto nel 2014, esattamente quando c'era Cambridge Analytica che faceva i suoi truschetti, gli ha venduto nel 2014 a Zuckerberg, sapete cosa? Whatsapp, li sapete per quanto? 19 miliardi di dollari. Allora caro Brian Acton, con i tuoi 19 cazzo di miliardi di dollari che ti sei intascato vendendo Whatsapp e quindi rendendo ancora più forte Facebook, se voi scrivete qualcosa su Whatsapp il loro algoritmo ve lo controlla e vi può dare pubblicità finalizzata a quello di cui voi state parlando su Whatsapp. Certo, non sai i nomi e cognomi, ma hai i cosiddetti cluster. Allora, Brian Acton, se fai tanto il moralista, dici che schifo Zuckerberg, che brutto i dati utilizzati in maniera farlocca, allora perché hai venduto al nazifascista Zuckerberg la tua azienda per 19 miliardi di dollari soltanto tre anni fa? Fai più schifo, fai più schifo di Zuckerberg, molto di più, sei molto più disgustoso di Zuckerberg, sei molto più ridicolo di Zuckerberg, con i tuoi 20 miliardi nel conto corrente e oggi ti permetti di dire, oh non si fa così, sono uno che vuole la tutela della privacy, il modo migliore per tutelare la privacy è non vendere di Whatsapp, continuare a fare una battaglia solitaria nel tenere Whatsapp come tua azienda autonoma rispetto a Facebook invece gliel'hai venduta, quindi zitto, dice Stefano, infatti meglio usare Telegram che non fa parte di Whatsapp, ma ce ne sono tantissimi, Telegram è uno dei tanti, ce n'è un altro che si chiama Confide, ce ne sono tantissime di queste possibilità, è vero, buona domenica delle palme, delle palme tutti voi perché ho ricevuto dei messaggi. L'altra ultima cosa che vi segnalo, che mi è molto divertita, è il pezzo su Corriere della Sera, per la prima volta un volo diretto tra Europa e Australia, dal 1934 ci volevano 31 soste, 12 giorni e 12.000 euro per andare da Londra all'Australia, oggi ci vogliono 17-18 ore volo diretto e 826 euro, questo è anche un po' il progresso. L'ultima cosa che è invece il regresso, intervista a Marta Vincenzi che è il sindaco condannato a 5 anni per l'alluvione di Genova, che dice una cosa sacrosanta, sindaco del PD condannato, bisogna cambiare le regole perché se no nessuno vorrà fare il sindaco, dice giustamente Marta Vincenzi, che ricorda come ci sono state alluvioni una settimana prima con 12 morti, un mese prima con 20 morti, tante altre alluvioni, nessuno è condannato, ma può essere che soltanto Marta Vincenzi abbia voluto e abbia omesso comportamenti per rendere il suo omicidio colposo? Evidentemente sì, ma l'idea che un sindaco debba farsi 5 anni di carcere per omicidio colposo, plurimo, per le sue disattenzioni, incurie, incapacità, quello che volete, mi sembra un paese veramente strano con eccessi di sanzione nei confronti di persone come il sindaco Vincenzi e ridicoli sanzioni nei confronti di chi invece in maniera premeditata quei reati li fa. Ma questo è una cosa che non possiamo raccontare perché quando si condanna un politico la folla inferocita è tutta contenta, quelli di destra saranno contentissimi, ah! Hanno condannato quella sindaca comunista, noi antigrillini saremo contentissimi quando condanneranno Nogarin a Livorno per una cosa simile, ma la realtà è che se pensiamo al nostro futuro, pensare che un sindaco debba essere condannato da un magistrato per aver omesso un'allarme a 5 anni di omicidio colposo ci fa avviare in un paese dell'orrore in cui tutti voi rischiate di essere condannati per una bazzecola se fate attività pubblica. Buona Domenica delle Palme a tutti quanti voi, condividete se la zuppa vi è piaciuta, noi ci vediamo domani come sempre. Ciao!